Parliamo del mercato del lavoro, parliamo di articolo 18, parliamo di questa polemica. Io sono contento che finalmente si parla, si comincia a parlare sul serio della sostanza di quello che sarebbe per me una vera riforma del mercato del lavoro. E da quando ho pubblicato il mio ultimo libro, Mazziamo il gatto pardo, febbraio scorso, che dico la riforma del mercato del lavoro è fondamentale. L'Italia non avrà nessuna crescita finché non fa le riforme che gli altri grandi paesi hanno fatto dieci o vant'anni fa. La Germania non è il modello perfetto? Abbiamo paura dei mini jobs? Certo, non c'è perfezione. La Gran Bretagna era troppo brutale con la Thatcher? Bene, ma alla fine qual è il morale della favola? che dove, laddove, è stato fatto, in Germania, in Inghilterra, in Spagna, in Olanda, vere riforme che hanno creato più flessibilità, i sindicati hanno protestato, perché loro, come in Italia, pensavano, ah, questa sarà una flessibilità solo in uscita, non in assunzione. Non è vero. Laddove sono state fatte vere riforme del mercato del lavoro in Europa, il tasso della disposizione è molto meno di quello in Italia. In Germania siamo al 5%, in Inghilterra 6% o 7%, in Italia 13%, per non parlare della dissipazione giovanile. E poi, la tutela crescente non è altro che un sistema che affronta la realtà, che oggi meno di 20% dei nuovi contratti sono a tempo indeterminato. Se vogliamo aumentare le possibilità di avere contratti stabili, certo la tutela crescente, che vuol dire che più che stai, più sei protetto, è il modo di farlo. L'articolo 18, ovviamente, è la bandiera rossa per Susanna Camusso. Susanna Camusso fa parte del passato, non del futuro. L'articolo 18 non deve essere abolito, deve essere diluito. Cioè, la reintegrazione è una piaga, è un problema perché viene abusato troppo. Bisogna tutelare il lavoratore contro le discriminazioni, contro il mobbing. Certo, queste cose sì, ma bisogna anche avere un sistema dove si può assumere senza paura. Ovviamente non basta. Ovviamente ci vogliono investimenti pubblici. Ovviamente c'è una guerra ancora a livello europeo da combattere su come si può sforare o stare dentro il 3% e investire i soldi pubblici. Io vorrei vedere anche il pagamento dei debiti alle imprese, della pubblica amministrazione. Io vorrei vedere questi investimenti pubblici in modo massiccio, perché ci vuole un stimolo. Non gira il denaro nell'economia, quindi ci vogliono queste cose. E' una serie, un insieme di riforme che Italia ha bisogno. Io amo Italia e sono molto triste vedere una situazione in cui stiamo ancora qui a parlare di un sistema del mercato del lavoro creato negli anni 70. Dobbiamo modernizzare il paese.